Ehi ragazzi, come va? Io sono Lethinox e oggi siamo su Minecraft! Perché ogni volta lo pronuncio peggio? Non lo so. Il fatto sta che oggi siamo su Minecraft. Aspetta che voi non vedete nulla. L'ho lasciato... L'abbiamo... Really? L'abbiamo lasciato così... Qua c'è una piantina e adesso non c'è più. Eeeh, che cazzo devo fare? Ah sì. Ho giocato un po' fuori camera per andare avanti un po' con la... Con la pressa di materiali. Perché Lethinox? Eeeh, perché praticamente volevo andare avanti per poter fare il breeder. E siccome ci vuole un sacco di sabbia... Oddio, quello è pronto. Quello è pronto! Non voglio cadere. Comunque non sono riuscito a prendere tutti i materiali. Però vi faccio vedere un po' come... A che punto stiamo messi. Ah sì, poi è arrivato questo tizio. Hola tizio. Che io sinceramente ucciderei a queste qua e prenderei le corde. Se me lo permetti. Eeeh, non ho niente di interessante. Nah, non ho un cazzo. Non ho un cazzo di interessante mister! Se soltanto faccio più un critico, giusto? No, non scappare! Toma! Toma! Mamma mia. Sono un... Sono molto crudele, lo so. Però adesso abbiamo questo per poter fare le farm. Cioè le farm, le piccole farm di animali per poter fare quello che vogliamo con loro. E che cazzo vi devo far vedere? Non mi ricordo, tu te ne puoi andare. Fanculo. Allora, abbiamo... Ho preso un sacco di sabbia, tantissima, e ho fatto questo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Mi sa che devo fare dodici in totale. O di questo tipo e di questo tipo. Però mi sa che non faremo tutto di sabbia. Prenderemo un po' di pietra. Mi sono portato questo dalla casa. E poi ho messo... Ah, sì, per fare cristallo. Sì, effettivamente. Abbiamo un po' di cristallo. Che non mi ricordo neanche quanto ci voleva. Però quello che faremo oggi sarà fare una miniera. Perché l'obiettivo... L'obiettivo, ragà, sono i diamanti. Perché così mi faccio un piccone di diamante. Cioè, sai, prima di fare il breeder e tutte quelle cose vorrei almeno un piccone di diamante per prendere un po' di obsidian e quelle cagate. Quindi l'idea è fare la miniera direttamente in extreme hill. Sinceramente, è quello che voglio fare. Lo so, mi sto allontanando un po' da tutto. Però poi tutto prenderà senso, lo vedrete. Ed è meglio così che rimpicciolire tutto la base in un posto piccolissimo con tutte le cose accanto. È brutto. Preferisco avere le cose tutte dove le voglio avere, che è in extreme hills. E allora andremo là per fare la miniera che sarà quella definitiva che ci porterà sotto. Mi devo preparare, però. Anzi, ho ucciso qualche enderman. Uno, due, non lo so. Mi sono capitati. E... Perché abbiamo obsidian? Perché c'era in un boul, qualcosa del genere. È possibile. Non c'è neanche pietra, raga. Ah, ma c'è un po' d'oro. Facciamo due picconi. C'è legno? Facciamo due picconi. Così abbiamo tre e uno di questo e uno di questo. Lascio questo che non mi serve. Cioè, abbiamo un sacco di picconi adesso. Non esageriamo, Ale. Questo non mi serve, questo non mi serve. Però questo lo dovrei mettere qua. Allora, abbiamo cibo. Mi sa che ci rimane poco. Però, ah, possiamo lavorarci sopra poi. Eccolo qua. Abbiamo uno stack di pane. Mi prendo un po' di legno che sempre vuole avere un po' di legno sopra. E possiamo andare via. Dove cazzo? Non ho aperto il file dove c'è le coordinate. Allora, dobbiamo andare a 300, meno 100. Quindi verso di là. Verso di là dobbiamo andare. Oh, il deserto. Un Enderman. Non vorrei guardarlo, sinceramente. Non è il momento, non è il caso. Non è che c'è una ravina nascosta e poi muoio. Non mi piacerebbe, sinceramente. Ah, ma questo è stato... Non lo so se è stato registrando o no. Ma mi è esploso un creeper. Immagino che registrano perché qua non sono venuto fuori camera. Ma qui stavo andando in direzione opposta. Dovrebbe essere qua. Cazzo, sono il re del parkour. Guardate. Toma Maialini. Ma dove cazzo è Strain Hill? Mi sono perso. Questo posto è esploso la montagna. Ci sono fiori, ci sono fiori. E questo è il posto, questo è il posto. Penso, non lo so. Sì, 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 sì. Deve essere qua, deve essere qua. Ci ho fatto un giro lunghissimo e strano. Ma dovrebbe essere qui. No, no, dove sono i miei fiori? Oh, mi sto preoccupando, eh. Saliamo lì e aumentiamo i chunks. Anche se esplode un po' il computer. Perché questa è la versione Java di merda. Java di merda. Video settings. Mattiamo 14. Cazzo, ragazzi, in quella direzione. Perché è meno 100, no? 100. Oh, sono stupido. Ma che cazzo? Stiamo andando a 200 FPS. 14 chunks. Interessante, ma non lo vediamo adesso. Ma che cazzo? Devo attraversarvi il deserto? Ma che cazzo? Non c'è da tagliare nulla. Stavo dicendo al mio editor che doveva tagliare un po' perché da mezz'ora che sto camminando a cercare Extreme Hills stavo seguendo le coordinate di casa. Che non sono quelle proprio di casa, ma vicino casa. E allora stavo girando attorno a casa. E ho trovato questo. Tempio nel deserto. Tempio nel deserto. Mister, lo posso uccidere? Ci sono due, ci sono tre. Ma che è questo, Land? Hey, hey. Vieni, 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 vieni. Ma che cazzo? Pensi che ho paura di te? Vieni, vieni, vieni che hai paura. C'è lo scudo, Peach. Oddio, che paura, mamma mia. Mi hai fatto spaventare. Sei troppo noob. Allora, 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 allora. Stiamo attenti. Ok, da qua. Che tra l'altro questo è bello perché da qua possiamo prendere un bel po' di pietra di sandstone per farla da farm, che non è niente male, eh. Allora, e mi prendo anche questo che è molto buono per la salute. Oh yeah. Allora, smite. Bene, per la spada credo che si usi smite. Non mi ricordo che cazzo era smite. E vabbè, vediamo qua. Merda. E qua? Mi posso fare il piccone di diamanti. Quasi tutti sono una merda. Ma questo qua? Cioè, ma questo ci sta proprio. Allora, l'obiettivo di prendere diamanti l'abbiamo raggiunto senza fare mining. Allora, togliamo tutto quello che ci serve e non serve qua. No. Sono pieno di cose? Questo non è importante. Questo non è per niente importante. Mi odio buttare delle cose. Lo odio, però vabbè. C'è le priorità, quindi. Sti cazzi. Ehi, lo posso prendere? È qualche giorno che mi sto... Cioè, sono in fissa con Doctor House. Lo sto vedendo su Prime Video. E sto... Cioè, no, lo so. Mi sto... Mamma mia. Dovrei fare un video di... Cose da vedere su Prime Video. Un top 7. Fico, l'ho fatto di Disney Plus. Potrei farlo anche di Prime Video. E Netflix, per esempio. Che a Netflix anche ce l'ho avuto. È stato fighissimo. Il tempo che ce l'ho avuto, però poi non l'ho avuto più. Perché ho visto quello che volevo vedere. Che in poche parole è stato un paio di film che mi piacevo, che volevo vedere. E poi... E poi che altro c'è stato? Rick e Morty, ovviamente. Non ho visto Stranger Things. La anch'io mi sono messo, tipo, a guardarla un tempo. Poi ho messo... Non l'ho continuata. E a me capita una cosa che quando... Seguro una cosa che mi piace. Ma ci sto qualche giorno senza vederlo. Perdo la... Sapete, la motivazione per continuare a vederlo. Dovrei riprendere. Asi come sono a Roma e mia sorella in Sicilia. Non lo possiamo vedere insieme. Quindi... Niente Stranger Things per me. Ah, non lo posso prendere. Sì? Mi metto questo qui? No. No, 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 no. Allora. Però sì, con Doctor House sto in fissa proprio... Mi sono messo un sacco di episodi. Nel mio tempo libero. Che ho pochissimo. Vi giuro, non sto dormendo per niente. Per tutte le consegne. Sì, diciamo, le consegne che ho nello studio. Poi registro un sacco. Edito anche un po'. Per questo ho bisogno anche dell'editor. De Mr. Editor. Senza di lui non ce la farei. Veramente. Allora verrò qua in un altro momento. Per continuare. Adesso saliamo. Perché devo salire e tornare a casa. Perché già si sta allungando questo episodio. E non ho fatto quello che volevo fare. Quindi lo facciamo un altro giorno. Allora. 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 Un'altra. Su puta madre. Su puta madre. Oddio. Ehi putos. Corri. Guarda, 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 guarda che ce l'ha. Guarda che ce l'ha. Non ho bisogno delle. Fuck. Su puta madre. Corre, 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 corre. Non voglio sapere un cazzo. Ah, pure ci sono questi qua. Era accanto. E io non l'ho visto perché avevo i chunks a 7. Adesso ho i chunks a 12, 14. Non lo so. Ho 300 fps. Non c'è. Mamma mia. Optifine veramente fa tantissimo. Allora ragazzi. Abbiamo scoperto. Mamma mia. Allora ragazzi. Stavo per fare il thumbnail. Che lo potrei fare. Serve figo. Facciamolo qua in live. Mettiamo i shaders. Adesso esplode il computer perché sono a 14 chunks con i shaders. Ah, devi caricare. Mi avvicino un po'. Vai, 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 vai. Renderizza. Sta uscendo il sole. Vai, please. Carica. Carica un altro po' di chunks. Aumentiamo un po' i chunks. Facciamo esplodere il computer. 16 per esempio. Porca droga. Oh, cazzo. Oh, fa, 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 fa. Sta salendo l'altro merda. E no. Sta girando a 48 fps. Madonna. Aspettate, aspettate. Basta, 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 basta. E tu? Come here. Pensi che ho paura di te. Non ho paura di te. Oh, cazzo. Uh, va bene, ragazzi. Io spero che questo figo video di burro incredibile vi si riuscite un sacco. Se è così, lasciate un bel mi piace. Sto conservando tutto con attenzione. Adesso posso mettere questo qua, ecco. E mettiamo un altro lì accanto e uno sopra. E riposizioniamo questi. Mamma mia, che figo. Cioè, ora ho una casa di merda, ma figa. A posto. Mettiamo le cose super, iper, mega importanti qui. E come dicevo, speravo che fosse più epico. Sei triste? Lasciamo questo qua, che mi sembra molto importante. Veramente ho tanta roba, eh. Adesso ho tantissima roba, ma non so se sia. Mi mancano altri due stacks, tre stacks, più o meno. E poi un bel po' di cristallo. Quindi ancora, ancora c'è lavoro da fare. Per chiudere il mio mostro che non vi ho mostrato all'inizio dell'episodio, fa il mio. Come se io sono un disastro quando prendo sabbia. Sono troppo disastroso. Qua mi esploso un creeper, però fuori camera. Prendendo sabbia a random, perché sono... C'ho schifo a prendere cose. E sto distruggendo l'environment. E niente, ci vediamo un altro giorno, ragazzi. Quindi, ciao! Grazie a tutti.